Scuole chiuse per 15 giorni in tutta Italia. È la decisione presa dal Ministero dell'Istruzione, chiuse anche le università, bloccate le sessioni d'esame fino ad aprile. Da oggi e fino al giorno della riapertura, gli studenti potranno lavorare e proseguire il programma scolastico grazie alle piattaforme multimediali previste per l'insegnamento a distanza, un'alternativa che però non è sempre praticabile, visto che in alcune zone, a Napoli e in Campania, non c'è copertura della fibra e molti non hanno un pc fisso a casa. I sindacati CISL e UIL parlano di un provvedimento di difficile attuazione e discriminante. Va benissimo fare le lezioni, voglio dire, o in videoconferenza o farle tramite internet, però bisogna pensare che non in tutte le scuole funziona perfettamente la DSL o funziona direttamente il collegamento. Si stacca, si riattacca e quindi c'è il primo problema. Non in tutte le scuole sono dotati da tantissimi computer, anche se i dirigenti fanno di tutto per mettere postazioni, eccetera, eccetera, ma non funziona del tutto proprio alla perfezione. Secondo noi è soprattutto discriminante questo tipo di organizzazione per gli alunni. Noi parliamo di alunni che nel 90% dei casi sono minorenni, per cui diciamo che l'accesso a tutti i social deve avvenire tramite l'autorizzazione dei genitori. Sull'allungamento dell'anno scolastico, guardi, penso che in questo momento sia secondario. Io penso che la scuola oggi bene fa ad attivarsi al fine di eliminare al minimo i rischi di contagio per tutto il personale, alunni compresi chiaramente.